buongiorno buongiorno a tutti buon mercoledì e bentrovati nel canale benvenuti in questo nuovo video video dedicato alle assenze del torneo di monte carlo sono arrivate ieri tre defezioni importanti per quanto riguarda il primo mille sulla terra e poi parleremo anche velocemente dei nostri ragazzi impegnati in quel di marrakesh e di estoril per capire un po la situazione vi dico subito che la giornata è stata la giornata di ieri è stata meno positiva rispetto al lunedì intanto scusatevi per il raffreddore ovviamente un raffreddore spaventoso nel frattempo iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella per le notifiche partecipate al fatta tennis andando sul sito scaricando il regolamento www.fantatennis.net scaricando il regolamento scaricando il calendario delle settimane potete fare i vostri pronostici sia unendovi al canale telegram che che direttamente su youtube commentando il video del sorteggio del giocatore giolli che ci sarà venerdì pomeriggio perché poi venerdì sera ci sarà lo ripeto ancora una volta la diretta per quanto riguarda il commento del tabellone di montecarlo sul canale di fericottero blu quindi iscrivetevi anche al suo canale montecarlo montecarlo 2023 sono di ieri tre defezioni abbastanza importanti non lo farà nadal e questa era una defezione prevedibile mancheranno anche aliasim e soprattutto carlos alcarazza a cui da questo canale va il miglior augurio per una pronta guarigione speriamo che il problema alla colonna vertebrale il problema alla mano non siano assolutamente nulla di grave vista la rivalità con gli adixiner però noi vogliamo vedere altre partite come quella di come quella di miami e auguriamo allo spagnolo un ritorno pronto pronto ritorno dai campi di gioco e un pronto ritorno ad altissimo livello perché gli infortuni sono una cosa che non fanno parte dello sport vincere con gli avversari forti è sicuramente più bello e più gratificante rispetto a farlo con avversari infortunati o addirittura con avversari che non che non partecipano ai tornei monte carlo quindi perde dal punto di vista spagnolo due pedine fondamentali da dal che è stato il re di monte carlo e che comunque porta pubblico spagnolo alcaraz che doveva essere l'erede di rafa nadal ma che a monte carlo fino ad ora a un diciamo una vita sfortunata avrà tantissimo tempo per avere fortuna però eliminazione al primo turno lo scorso anno e forfe quest'anno probabilmente un forfe dovuto anche al fatto che non ha punti da difendere a monte carlo quindi sicuramente un forfe preso a cuore un pochino più leggero nel senso che se avesse dovuto difendere una una semifinale una finale o addirittura il titolo probabilmente la storia poteva essere diversa il fatto di aver perso al primo turno ha dato ad alcaraz la possibilità di prendersi una settimana di riposo in vista poi di barcellona di madrid dove difende il titolo e soprattutto di roma e del roland ross manca anche aliasim che diciamolo pure su terra non è una delle perdite più distruttive per quanto riguarda il torneo ma queste due assenze hanno il vantaggio di far scalare anzi queste tre ma in realtà la dalle la dietro sinner quindi di fatto le assenze che pesano sono due quella di alcaraz appunto e quella di aliasim sinne scalerà numero 7 come testa di serie con l'ovvio vantaggio di non fare il primo turno e di ritrovarsi con un buy al secondo turno e avere soprattutto degli ottavi di finale teoricamente più semplici e poi bisognerà vedere contro chi andrà nel sorteggio per quanto riguarda i quarti questo lo sapremo lo sapremo venerdì l'assenza di nadal ovviamente toglie fascino a un torneo che che molto spesso è stato tutti contro la dal l'assenza di ripeto di alcaraz e di aliasim toglie due next gen competitivi soprattutto alcaraz su terra e soprattutto lancia a questo punto tre favoriti abbastanza chiari nel torneo che sono gioco vince che nonostante l'assenza da campi di gioco da quasi due mesi a monte carlo partirà favorito anche perché il circolo dove si allena e quindi conosce quei campi benissimo campi che sono i più lenti del circuito e quindi non sono proprio gioco vince non è proprio a suo agio ma comunque i campi li conosce molto bene soprattutto è circa 20 giorni che si allena su terra il secondo favorito diciamolo pure è il nostro yannick sinner per la condizione e per il tennis che ha fatto vedere a miami il terzo favorito è ovviamente stefano sisi pass mi campione in carica è sempre pericoloso sui campi del monte carlo country club per finire diamo un'occhiata ai nostri ragazzi che sono che sono che sono stati impegnati ieri nelle due tornei dei due tornei su terra rossa ma ma storia ha fatto l'impresa battendo in in 37 gialli 6 3 3 6 6 3 insomma buono 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 pavassori purtroppo in presa che non riesce a monadio per perde 75 64 da ucconnell e soprattutto l'impresa che non riesce in quel dell'estorilla dove si arrendono prima nardi a manovic con un 64 61 un eloquente 64 61 poi zeppieri perde da perde da sosa qua 64 16 63 a favore del portoghese quindi diciamo che non c'è stata il martedì da urrà come era stato il lunedì avanza soltanto pavassori oggi per quanto riguarda i due tornei su terra prendiamo in considerazione i due tornei su terra esclusivamente perché insomma la terra verde di houston e poi di charleston a livello vt a è una terra un po diversa da quella che si affronterà dalla prossima settimana quindi diciamo che il test e va è buono per quanto riguarda la terra rossa e bavassori affronterà mular mentre qui questo a marrakesh mentre ad estoril sarà la volta di del derby cecchinato contro foglini vedremo un po chi la spunterà è un derby tra tra due nobili decaduti cecchinato che è stato la prepista di questo periodo splendido per il tennis italiano con quella semifinale a parigi e foglini che poi ha confermato il periodo d'oro vincendo montecarno quindi sono i due come si dice due pionieri di questo periodo d'oro che si affrontano in un momento per entrambi di estrema difficoltà una partita che oltre che i quarti di finale di un torneo può voler dire anche tanto 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 morale io vi saluto vi auguro una buona giornata un buon mercoledì ci vediamo ovviamente giovedì mattina per commentare domani mattina per commentare quello che è successo nella giornata di oggi grazie a tutti e buona buon mercoledì buona giornata a tutti